Accompagnata dal teatro, musica e tanta festa, prende al via, il 16 agosto prossimo, la 38esima edizione del Fuoco del Morrone, che da quest'anno diventa Fuoco del Morrone in Festival. Per la prima volta, la staffetta che da Sulmona all'Aquila porta alla fiaccolata della pace nel nome di Celestino V, organizzata come ogni anno dal Movimento Celestiniano dell'Aquila, nell'ambito della perdonanza celestiniana, acquista una nuova veste grazie ad alcuni eventi che si terranno nelle principali tappe attraversate. A Dacciano, Villa Sant'Angelo, Castelvecchio su Beco, Bagnaturo e, naturalmente, Sulmona e l'Aquila, l'arrivo del Fuoco del Morrone sarà anche l'occasione per offrire ai partecipanti un momento di meditazione ed entrare nel clima della perdonanza celestiniana. Quest'anno, inoltre, il Fuoco del Morrone in Festival torna a far vivere l'antico Cammino del Perdono sui passi di Celestino, un'esperienza di cammino a piedi aperta a tutti, durante la quale poter scoprire passo dopo passo i luoghi più belli e nascosti dell'Abruzzo interno, nonché fare esperienza di amicizia con i pellegrini in viaggio, lungo analoghi percorsi di fede e spiritualità, come il Cammino di Francesco.